Il GIP del Tribunale di Salerno Alfonso Scermino ha convalidato l'arresto del 39enne di origini nigeriane accusato di aver molestato una minorenne nella serata di lunedì nei pressi della fermata dell'autobus di via Olevano a Battipaglia. L'interrogatorio effettuato dagli inquirenti ha fatto emergere però non poche contraddizioni, a cominciare dal fatto che l'uomo abbia poca dimestichezza con l'italiano, tanto da rendere necessaria la presenza di un interprete per tradurre alcune sue affermazioni. Il 39enne inoltre ha sostenuto di essere stato accerchiato ed essere stato lui stesso vittima di un'aggressione, una versione non accettata dall'accusa che ribadisce la versione propugnata nelle ore successive, secondo la quale la ragazza sarebbe stata palpeggiata nelle parti intime dall'uomo.